Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di TOTS Serie A Team. Rilascio venerdì 24 maggio, durata promo una settimana, ci saranno giocatori TOTS Team completo, alcuni giocatori Moments, un giocatore obiettivo e almeno tre via SBC. Andiamo a parlare oggi di TOTS, portieri e difensori, quelli che potrebbero effettivamente farne parte. E mi raccomando, votate il vostro TOTS qua nei commenti. Non dimenticate ovviamente di fare un salto su fcmaglia.com perché con il coupon LUCIO, oltre ad avere il 10% di sconto, avete una maglia omaggio ogni due maglie acquistate, perché ogni 59€ di spesa. Mettetevi insieme agli amici, scegliete le magliette, ci sono già disponibili alcune divise della stagione 24-25 che hanno già annunciato, quindi mi raccomando, link in descrizione e tutte le info qua sotto. Allora, partiamo con i portieri. A mio parere, a mio avviso, Sommer merita un posto nel TOTS. Puoi perché, se non erro, è stato il giocatore, il portiere con maggiore numero di clean sheet in campionato. L'Inter ha vinto lo scudetto, ma ci terrei a fare una menzione d'onore per Milinkovic-Savic, che è a un passo dai clean sheet fatti da Sommer e che, chiaramente, non può tenere il confronto della squadra e della difesa dell'Inter, ma comunque si ha fatto una super enorme stagione. E questo è il mio portiere TOTS, fatemi sapere, secondo voi, chi merita una menzione in questo team. Passiamo ai difensori centrali, dove ne ho selezionati tre, ne sceglieremo due. Direi che il primo ad esserci quasi sicuramente sarà Bastoni, dell'Inter. Poi, ripeto, per i motivi di Sommer, ma anche per i numerosi assist messi a segno in stagione. E Bastoni ha fatto sicuramente una grande stagione. Poi, sarà difficile scegliere tra Buongiorno e Calafiori. Calafiori probabilmente è stato quello più sorprendente, no? Quello da cui non ci si aspettava una stagione del genere. Buongiorno, invece, ha confermato di essere uno dei migliori difensori italiani e del nostro campionato. Fatemi sapere, la vostra scelta, non so veramente chi scegliere tra Buongiorno e Calafiori, quindi aiutatemi voi. Ultima, e non per importanza, sono i terzini. Vi ricordo che tra pochi giorni, un paio di giorni circa, faremo i centrocampisti gli esterni di attacco e lasceremo le punte all'ultimo e terza parte del video. Bene, io ho selezionato tre giocatori che sono Teo Hernandez. Per quanto probabilmente non meriti realmente di stare in questa posizione, è, diciamo, forse uno dei più forti terzini al mondo quando sta bene, quando la squadra lo supporta e quando lui è in giornata, ok? Quindi probabilmente, facendo spazio a Di Marco, che non ha eguali in stagione, ho selezionato Bellanova, ma c'erano tanti altri terzini che potevano fare il loro ingresso. Fatemi sapere voi se secondo voi Teo Hernandez merita o meno un TOTS. Io vi dico che sicuramente avrà un TOTS o una card Momenti, perché a EA Sports piacciono questi, quindi sicuramente integrerà in qualche modo una versione di Teo, ma ditemi i vostri terzini qua nei commenti. E poi appuntamento fra un paio di giorni con centrocampisti e esterni d'attacco. Vi vediamo alla prossima, ciao!